9 ottobre 19, Posti Italiani in risposta alla paventata chiusura di uffici postali ha ribadito l'impegno assunto nel novembre 18 di assicurare la capillarità territoriale dei servizi postali e di non chiudere uffici nelle aree meno densamente abitate, in particolare nei comuni con meno di 5.000 abitanti. L'azienda ha precisato inoltre che in alcuni grandi città con numeri di abitanti superiori a 100.000, ad alta densità abitativa e capillare le presenze di uffici postali è stato avviato un progetto di rimodulazione delle presenze degli uffici in aree urbane. Gli uffici coinvolti sono esclusivamente uffici posti con esigo numero di operazioni effettuate al giorno con presenza di altro ufficio limitrofo entro due chilometri. Per quanto concerne il territorio Ligure, i referenti locali di poste italiane contattati informalmente in data 14 ottobre 2019 hanno riferito quanto segue. L'elenco degli uffici che verranno chiusi non è ancora ufficiale e se ne sta discutendo a livello regionale fra pochi giorni sarà comunicato ufficialmente. La problematica è che comunque è stato oggetto di incontri con il sindaco di Comune di Genova e con le organizzazioni sindacali. Nei giorni scorsi anche il Presidente Totti ha chiesto un incontro a poste italiane sul punto che però non si è ancora svolto. Al momento è prevista la chiusura di sette esportali sul territorio del Comune di Genova. La chiusura degli uffici non comporterà nessun esubero di personale quindi non verrà sacrificato nessun posto di lavoro. Si tratta di una riorganizzazione degli uffici finalizzata a aumentare l'efficienza del servizio e non a tagliare i costi di personale. Queste qua sono le parole di poste italiane e non le mie che vi riporto. Gli uffici che verranno chiusi sono quelli con pochi operatori aperti solo mezza giornata e in genere poco frequentati. Gli operatori verranno spostati in altri uffici che garantiranno un orario di apertura per l'intera giornata e verranno quindi potenziati gli uffici maggiormente utilizzati dall'utenza. Le zone in cui si trovano gli sportelli in chiusura sono servite ampiamente da altri uffici situati al massimo nell'arco di un chilometro. La chiusura dello sportello multietnico di via Dante, conseguenza della scarsa affluenza di utenza, in ogni caso nella diacente ufficio di poste italiane, sito nello stesso edificio di via Dante, potranno essere effettuate tutte le operazioni che attualmente vengono gestite nello sportello in chiusura. Vi è inoltre un altro sportello multietnico in piazza Cavour, zona Portantico, che registra un numero molto maggiore di accessi e che verrà mantenuto aperto. L'azienda ha evidenziato che gli uffici multietnici sono uffici pensati per favorire l'integrazione e rispondere alle esigenze degli immigrati. Agli sportelli si trovano operatori che parlano arabo, spagnolo, francese, inglese e che svolgono un ruolo che in alcuni casi diventa quasi quello di un settore culturale, vista la concentrazione di utenti stranieri nel centro storico, l'azienda ritiene utile chiudere lo sportello multietnico di via Dante, poco frequentato, e mantenere e rafforzare lo sportello multietnico di piazza Cavour. A seguito di alcune rimostranze degli utenti residenti nei pressi di via Rigola, con nota il 14 ottobre 2019, a firma di sei abitanti e dell'apparizione con me il 28 ottobre 2019, i quali lamentano la chiusura degli uffici postali di quella zona, facendo rilevare che gli uffici postali più vicini non sarebbero di agevole accesso, specie per una popolazione anziana, questo settore si è nuovamente messo in contatto con il referente locale di Posti Italiani per avere aggiornamenti, cioè quindi il settore nostro, regionale, ha chiesto aggiornamenti a Posti Italiani segnalando queste lamentele da parte dei cittadini. Inoltre, sia il Presidente della Regione che il Sindaco di Genova hanno scritto ai vertici di Posti Italiani chiedendo un incontro e delle delucidazioni circa i criteri effettivamente adottati per individuare gli uffici da chiudere. Il referente di Posti Italiani ha comunicato che, poiché la richiesta di spiegazioni e approfondimenti proviene da varie parti d'Italia e da vari livelli istituzionali, è stata depositata anche un'interrogazione in Parlamento. L'azienda sta predisponendo un'unica risposta ampia e valevole per tutti i casi in cui darà motivazione delle sue scelte. Purtroppo non sembra che ci siano margini per una modifica dell'attuale piano di chiusura degli uffici. Posti Italiani tuttavia prevede di utilizzare una figura particolare di portalettere che, su richiesta dell'utente, si recherà a suo domicilio per consentirgli di effettuare diverse operazioni, compresi i pagamenti a mezzo post. Il servizio, così come attualmente previsto, è a pagamento, ma non sembra essere escluso alla possibilità di aprire un tavolo per negoziare quantomeno delle riduzioni tariffarie in presenza di particolari condizioni. Si evidenzia poi che i bollettini possono essere pagati anche presso i tabaccai. Posti Italiani sta lavorando ad una campagna mediatica a livello nazionale per illustrare le iniziative che vanno messe in campo per favorire i cittadini con maggiore difficoltà. A questo aggiungo che, ormai da tempo, l'ex Ministero delle Poste Telecomunicazioni è confluito nel Ministero dello Sviluppo Economico, a cui forse sarebbe bene, visto che le... quello che oggi noi stiamo discutendo a livello particolare per Genova, come ho letto anche nella risposta, avviene a livello nazionale. Quindi è una scelta politica che anche in questo caso, non per togliere la possibilità di agire a Regione, ma è stata una scelta politica avvallata.